Come sta andando questa prima giornata di saldi? Beh, il flusso di gente sembra molto positivo lungo le strade del paese. Bisogna poi vedere se questo si ripercuoterà in ottimi affari per i negozianti interessati. Purtroppo usciamo da un periodo di dicembre che è stato veramente, diciamo, drammatico. Speriamo che i saldi possano un po' riprovare una situazione un pochino più positiva. Siamo poco fiduciosi, diciamo. E come commentate ad esempio i mercatini della Befana che stendono un po' l'offerta di Clusone? Sì, siamo sicuramente una cosa positiva. Serve sempre a ricreare un po' di convivialità e serve ad attirare anche la gente, nello specifico, a Clusone. Purtroppo, come dico, la situazione, la crisi economica è imperversa anche qua nell'Alta Valle. Non dipende da situazioni, diciamo, particolari di Clusone, più oltre che dell'Alta Valle, ma dalla situazione economica generale. Come sta andando? Vediamo tanta gente, forse pochi sacchetti tra le mani di queste persone. Hai colpito veramente il segno. Tanta gente oggi dal punto di vista del calendario sono partiti i saldi, però per me i saldi dal punto di vista economico partiranno veramente domani, perché tanta gente oggi lavora. Non avevamo preso in considerazione questo fatto. Oggi sono partiti, però tanta gente lavora, ci sono in giro quelli che sono in vacanza. Però io penso che domani e sabato sia veramente l'inizio giusto dei saldi. Magari oggi si guardano un po' i prezzi, poi magari nei prossimi giorni si può completare l'acquisto. Sì, i prezzi sicuramente chi viene a comprare in saldo li hanno già visti prima, li paragonano che effettivamente siano scontati, che siano gli stessi capi di qualità che hanno visto magari a prezzo pieno e poi sicuramente o domani o sabato verranno a comprarli.